Il guasto causato dalla rottura dei tre dischi fissi che gestiscono il sistema informatico della ASLE di Teramo è venuto nella giornata di ieri e ha creato e sta creando più problemi del previsto. Una situazione su cui l'azienda sanitaria Teramana ha annunciato che solo nella giornata di domani si riuscirà a ripristinare appieno il servizio telematico ed informatico della ASLE. Ci stiamo lavorando ininterrottamente da ieri mattina fino a stanotte e oggi continuo i lavori, probabilmente il tutto questa sera dovrebbe essere risolto, mettiamoci il condizionale, il se perché non sappiamo se ce la faremo, ma da una riunione che abbiamo fatto poco fa è emerso che intorno alla serata tutte le attività informatiche dovrebbero essere visitate e quindi per domattina dovrà ripartire a regime. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie abbiamo dato disposizione di effettuarle tutte, nessun utente sarà mandato a casa senza aver effettuato la prestazione, a meno che, e questa diventa una tutela per l'utente stesso, a meno che non debba effettuare un prelievo non in urgenza, per cui lì preferiamo eventualmente rinviare la prestazione. Per un motivo di sicurezza, ripeto, non potendo stampare l'etichetta, vado nel tecnico, naturalmente poi non siamo sicuri che l'esame corrisponda al paziente. Quindi chiediamo ovviamente scusa per il disagio, però invitiamo anche gli utenti a pazientare. I referti li potranno ritirare nei giorni successivi, eventualmente chiameranno per avere contezza e poi verranno a sistemare, a regolarizzare eventualmente il ticket. Stiamo mettendo in atto anche per il futuro, abbiamo fatto appunto una riunione con gli informatici dell'azienda, con tutti coloro che collaborano con noi, per mettere in piedi un sistema che nel futuro eviti che si possono creare, perché è successo un evento veramente rarissimo, a detto degli informatici, purtroppo è successo, adesso dobbiamo vederne pure le cause, perché è successo, dobbiamo avere l'alternativa per evitare che succeda il futuro. Come diceva la dottoressa, noi ci scusiamo, veramente con l'utenza, però ecco, tutto può succedere nella vita, queste sono delle cose che accadono, è accaduta e la dobbiamo affrontare nel migliore dei modi per la cittadinanza.